In questo video parliamo di rette nello spazio. Le rette nello spazio possono essere di tre tipi, parallele, incidenti o sghembe. Ricordiamo che due rette parallele sono sempre complanari, ossia esiste sempre un piano che le contiene, così come lo sono due rette incidenti. Invece per due rette sghembe non riusciamo mai a trovare un solo piano che le contenga entrambe. In questo esercizio ci proponiamo di individuare quale sia la posizione reciproca nello spazio di due rette date. Siano date quindi una retta R in forma parametrica e una retta S anch'essa in forma parametrica. La prima cosa che andiamo a verificare è se queste due rette sono parallele. Come facciamo? Subito andiamo a individuare quelli che sono i parametri direttori della retta R, ossia 3, 1 e 4. Lo stesso procedimento lo utilizziamo per la retta S. Questa volta andiamo a considerare i coefficienti del parametro Q, quindi meno uno, due, uno. Affinché le due rette siano parallele occorre che i parametri direttori siano proporzionali fra di loro. Quindi dovremmo verificare se 3 diviso meno uno sia uguale a uno diviso due e che sia uguale a quattro diviso uno. E' facile verificare che meno tre è diverso da un mezzo che è diverso da quattro. Quindi le rette non sono parallele. Ci chiediamo quindi se le due rette sono incidenti. Questa condizione si traduce nel trovare un punto che appartenga sia alla retta R che alla retta S. Beh, per far questo quindi deve esistere un particolare valore di t, che chiamiamo t con 0, e un particolare valore di q, che chiamiamo q con 0, tale per cui questo particolare punto sia appartenente sia ad R che ad S. Questo si traduce quindi nel risolvere il seguente sistema. 2 più 3 t con 0 uguale a 1 meno q con 0 t 0 uguale a meno 1 più 2 q con 0, ed infine meno 1 più 4 t con 0 uguale a 3 più q con 0. questo sistema può essere quindi visto in questa maniera, isoliamo al primo membro t con t con 0 e q con 0, quindi 3 t con 0 più q con 0 uguale a meno 1, ed infine 4 t con 0 meno q con 0 uguale a 4. Questo sistema può essere risolto utilizzando le matrici. Quindi andiamo a definire la matrice dei coefficienti t con 0 e q con 0, che chiamiamo ad esempio M, i cui elementi saranno 3 e 1. La seconda riga sarà 1 meno 2 ed infine la terza riga 4 meno 1. E' facile verificare che questa è una matrice 3 per 2, 3 righe, 2 colonne. La caratteristica massima quindi potrà essere solo 2. effettivamente la caratteristica di questa matrice è 2. Perché? Perché se andiamo a isolare una sottomatrice 3, 1, 1, meno 2, il determinante è uguale a meno 7, che è diverso da 0. A questo punto andiamo a calcolare il determinante della matrice completa. La matrice è costituita da i coefficienti di t con 0 e q con 0, che è la che abbiamo appena scritto, a cui affianchiamo i termini noti, cioè meno 1, meno 1, 4. Il determinante della matrice completa verificate che sia meno 42. Questo significa che la caratteristica della matrice completa è 3. Questo ci porta a concludere che la caratteristica di m e la caratteristica della matrice completa sono diverse, quindi non esiste soluzione, per cui concludiamo che le due rette R ed S non sono incidenti. Concludiamo quindi che le due rette sono sghembe. Verifichiamolo per esercizio. Dobbiamo costruire una matrice e verificare che il determinante di questa matrice sia diverso da 0. Per fare questo, la prima cosa che facciamo è determinare due punti, uno appartenente ad R, che chiameremo A, e uno appartenente ad S, che chiameremo B. Tali punti. Tali punti possono ad esempio essere determinati dando particolari valori al parametro T e al parametro Q. Per comodità, scegliamo di considerare T uguale a 0 e Q uguale a 0. Rimarco che qualsiasi altro valore di T e Q andrebbe bene. Nel nostro caso il punto A diviene quindi 2, 0, meno 1. Il punto B, caratterizzato da Q uguale a 0, 1, meno 1, 3. A questo punto possiamo cominciare a costruire la matrice che chiameremo M per comodità. La prima riga di M è data semplicemente dalla differenza delle coordinate di A e di B. Quindi il primo elemento di M sarà 2, meno 1. Il secondo elemento della prima riga di M sarà 0, meno, meno 1. Il terzo elemento della prima riga di M sarà meno 1, meno 3. La seconda riga di M è semplicemente data dai parametri direttori di R, quindi 3, 1, 4. L'ultima riga, la terza di M è data dai parametri direttori della retta S, quindi meno 1, 2, 1. Il determinante della matrice M verificate che sia meno 42. Quindi, essendo il determinante di M diverso da 0, concludiamo che effettivamente le due rette sono sghende. Grazie. 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 Grazie.